Ciao a tutti, oggi video recensione in 60 secondi per Nokia Lumia 830, il nuovo smartphone della casa finlandese che promette prestazioni da top di gamma ad un prezzo da fascia media. Sicuramente ci riesce dal punto di vista di design e materiali, molto bello e ben costruito, la cornice in metallo fonde bene l'anima elegante della parte frontale nera lucido con quella più vivace della scocca posteriore in policarbonato. La maneggevolezza e il grip sono aiutati molto dagli angoli smussati e dalla cover posteriore gommata. E' buono il display LCD 5 pollici HD, risoluzione non altissima ma resa cromatica davvero soddisfacente, luminosità elevata anche sotto la luce diretta del sole e ottimi angoli di visuale. Non proprio da top di gamma il processore Snapdragon 400 con 1 GB di RAM, però l'ottimizzazione buona di Windows Phone permette comunque al telefono di essere sempre molto fluido e sono quasi totalmente assenti lag e impuntamenti. La fotocamera anteriore 0,9 megapixel niente di speciale, molto buona la posteriore da 10 megapixel con stabilizzatore ottico di immagine, flash led e lenti Carl Zeiss. Ottima infine la batteria 2200 mAh che non fanno fatica a portarci a fine giornata anche con un uso intenso del terminale. Il prezzo di lancio è 399€ ma si trova già a 350€ su Amazon, nel complesso si tratta di un terminale che mi è piaciuto molto e per me merita 4 stelle su 5. Se volete sapere di più andate a leggere la nostra recensione che trovate linkata nelle informazioni e andate a vedere la video recensione integrale sempre qui sul nostro canale di YouTube. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e condividete, se non vi è piaciuto fatemi sapere il perché nei commenti. A presto per Readable.com Gianluca Cilignano.